Una buona serata edizione della notte del nostro telegiornale che iniziamo parlando ovviamente di terremoto perché torna la paura in Abruzzo 4.2. Questa è la magnitudo del sisma di questa notte che ha svegliato anzitempo le popolazioni di Abruzzo, Lazio e Marche. Epicentro a tre chilometri da Campotosto e nell'assicura che non ci sono problemi per la staticità delle dighe della zona. Il servizio è di Alfredo Primante. Alle 4.13 di questa notte in tutto il centro Italia è tornata la paura per la scossa di magnitudo 4.2 registrata tra le province di L'Aquila, Teramo e Rieti. Il sisma, dicono gli esperti dell'INGV, ha avuto ipocentro a 14 chilometri di profondità ed epircentro a tre chilometri da Campotosto, interessando l'estremità meridionale dell'area attivata dalla sequenza sismica di Amatrice Visso, pochi chilometri a nord-est rispetto alle quattro scosse del 18 gennaio 2017 tra Barete e Capitignano. Un'area questa che nei giorni scorsi non aveva mostrato segni di particolare attività sismica, se non nella giornata di ieri. L'attenzione resta alta perché i livelli di sismicità nell'area sono superiori alla media, dice il direttore dell'INGV, Salvatore Stramondo, e nel centro Italia si sono registrati 61 eventi sismici, incluso quello di oggi, con magnitudo tra 4 e 5. Dunque, ha avvertito, non si possono escludere altre scosse di magnitudo analoga nell'area. Il sisma di oggi chiarisce e rientra nella stessa sequenza iniziata lo scorso agosto, col terremoto che ha colpito Amatrice. Si tratta cioè della stessa faglia e non c'è dunque un nuovo fronte che si apre. Intanto, la protezione civile ha fatto sapere che non si sono verificati danni particolari a cose o persone, mentre Enel dice che dalle ricognizioni visive sulle dighe situate nell'area interessata all'alzisma, non ci sarebbero criticità per la tenuta e la sicurezza. Enel ha anche avviato ulteriori misure strumentali e specialistiche, richieste per fenomeni di identità superiore a 4 gradi, che saranno rese disponibili all'autorità nazionale preposta al controllo delle dighe. Nuovo colpo della banda del Bancomat alla figliale Tercas, gruppo Banca Popolare di Bari, di Santa Maria in Baro, in provincia di Chieti. Distrutta la sede dell'istituto di credito con tre locali e altre tante vetrine. Il boato ha svegliato il paese, ma il Bancomat era vuoto. Assaltano il Bancomat a Santa Maria in Baro, ma restano a bocca asciutta. Cassa vuota alla ex Tercas della Popolare di Bari, colpita a maggio scorso anche alla figliele di Piazzano di Atessa, ex Caripe. C'è l'ordine da settimane di non caricare i Bancomat dal venerdì pomeriggio a lunedì mattina successivo, con tanto di cartello affisso sullo sportello. Ma i banditi hanno comunque fatto saltare la cassa continua. E il quinto colpo del genere in tre mesi nel territorio frentano. Hanno agito almeno in tre, attorno alle tre della notte scorsa, e poi sono fuggiti a bordo di due auto. I residenti della zona sono stati svegliati dal forte boato, compreso il sindaco Mariella Di Nunzio, che abita all'ultimo piano del Palazzo della Banca di fronte al municipio. Mi sono subito svegliato, sono andata sul balcone, ho visto proprio la macchina che partiva e un uomo che si infilava in macchina con una calza nera sulla testa. Ho chiamato i meni di carabinieri e poi sono scesa giù, ovviamente. E ho visto il disastro. Il Bancomat è distrutto, ma soprattutto la vetrina a terra, e dentro la banca fu riusciva tantissimo fumo. Andiamo all'Aquila adesso. Inchiesta sugli appalti pubblici, dubbi sui lavori al teatro comunale dell'Aquila. Dalle intercettazioni emergono particolari inquietanti. Nessun sopralluogo, nessuna relazione geologica, nessuna verifica sismica. Tutto da rifare, i particolari, nel servizio di Daniela Rosoli. Mentre si spulciano le carte, 200 pagine di ordinanza, sull'inchiesta relativa agli appalti pubblici che all'Aquila ha scatenato l'ennesimo terremoto giudiziario, l'attenzione degli investigatori ora si poggia anche sul teatro comunale dell'Aquila e sui suoi lavori. Nelle intercettazioni, infatti, si parla chiaramente del teatro. Dalle telefonate verrebbero fuori dei dubbi tecnici, come l'assenza di una relazione geologica sull'intervento di recupero e restauro del comunale dell'Aquila. La procura avrebbe già informato della questione il comune, che è proprietario dell'immobile, e dunque ora si teme però un nuovo stop dei lavori, dal momento che ci saranno ovviamente verifiche sulla tenuta di questi ultimi. Era inevitabile del resto. Se cade qualcosa di chi è la colpa, si dice così in una telefonata, parlando di eventuali nuovi scosse all'Aquila. Lavori svolti evidentemente senza un sopralluogo e senza le necessarie verifiche antisismiche e senza atti al genio civile, e questo in barba ai costi, che venivano invece gonfiati, arrivando anche a 13 milioni di euro circa. Anche in questo caso di mezzo Leonello Piccinini, geometra del MIBAC, e Leonardo Santoro, geometra dell'Internazionale di Altamura. Dagli atti è evidente che Zavarella avessi avuto l'incarico grazie a Piccinini ed emerge altrettanto chiaramente l'inizio dei lavori di scavo della Pratea senza sopralluoghi precedenti. Inoltre, come dicevamo, nessuna relazione idrogeologica, nessuna verifica sismica. Dagli atti emerge anche che la ditta si era posta a un problema di stress della struttura e di valutazione del rischio, che la sovrintendenza non si era posta invece pur di ottenere la variante ombre su ombre sulla ricostruzione. Gli inquirenti ora hanno a disposizione tutte le carte. Probabilmente la settimana prossima inizieranno gli interrogatori e, come preannunciato, è iniziata anche l'ispezione interna negli uffici della sovrintendenza e del MIBAC. Ci spostiamo a Vasto perché alcune famiglie hanno trascorso la notte fuori casa a causa di un incendio che ha interessato la zona nei pressi del villaggio Siv. Per domare le fiamme con un fronte molto esteso hanno lavorato fino all'alba i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto insieme a squadre di Lanciano e Ortona coordinate dal comando provinciale di Chieti, gli uomini del gruppo comunale della protezione civile di Vasto e i carabinieri impegnati ad assicurare la viabilità lungo la strada provinciale 181. Il rogo, probabilmente di natura dolosa, è arrivato vicino ad alcune abitazioni di via Rigolizia e via Collepizzuto tra Vasto e San Salvo. Si condannano con forza questi episodi, si sta lavorando per individuare i responsabili, è stato un gesto deplorevole, commenta il sindaco di Vasto, Francesco Menna, auspico, ha continuato, che i responsabili paghino per questo atto sconsiderato che poteva avere conseguenze decisamente più gravi. e ci spostiamo a Pescara perché l'edilizia in provincia e non solo vive un periodo di forte crisi iniziato nel 2008. Attività di mezzate e cantieri fermi nonostante la ricostruzione post-terremoto. La CGL questa mattina ha effettuato un sit-in di protesta per chiedere politiche di rilancio di uno dei settori strategici dell'economia. La filia CGL ha scelto come simbolo della protesta il cantiere fermo da anni delle palazzine Ater di Via Tavo a Pescara. Aperto nel 2006, finanziato con circa 11 milioni di euro, doveva essere completato nel 2011 dando così alloggio a 64 famiglie, ma un contenzioso con la ditta ha fatto sì che sino ad ora sia rimasto uno scheletro. Questo cantiere, secondo la filia CGL, è lo specchio dell'edilizia regionale, ferma al palo e in crisi profonda. Nonostante in regione i sismi del 2009 e del 2016 abbiano creato il più grande cantiere d'Europa per quanto riguarda la ricostruzione. In provincia di Pescara il settore dal 2008 al 2016 è praticamente dimezzato, sia come numero di imprese che come addetti. Dati pesanti per invertire i quali, dicono i rappresentanti sindacali, occorrono politiche adeguate sia a livello regionale che nazionale. Le ore lavorate sono dimezzate, la massa salari è passata da 48 milioni a 20 milioni, stiamo parlando di 3.000 lavoratori in meno, quasi 500 imprese che non sono sparite, che si sono trasformate in lavoratori in nero, in falsi lavoratori autonomi, i lavoratori che si sono trasferiti all'estero per cercare il lavoro. Con la contraddizione che in Abruzzo abbiamo il più grande cantiere dell'Europa che è la ricostruzione dell'Aquila. Quindi già con questa ricostruzione e poi, sì, insieme all'Aquila, dovremmo avere tanto di lavoro per i nostri lavoratori edili. Così non è. Se si allunga lo sguardo al settore nazionale, i dati non sono certo migliori. L'edilizia trascina dietro di sé un enorme indotto, oggi sempre più in crisi. Esempi ce ne sono anche in Abruzzo, vedasi la crisi della Ita al Cementi di Scafa. L'edilizia, così come la conoscevamo fino alla metà degli anni 90, non c'è più. Oggi, soprattutto in Italia, bisogna puntare sul restauro e sulla ristrutturazione del patrimonio immobile esistente. Noi diciamo con forza che siamo consapevoli che quel modello di sviluppo che abbiamo conosciuto, che riguardava il nostro settore, non verrà più. Siamo consapevoli del fatto che oggi dobbiamo guardare più che alle nuove costruzioni, dobbiamo guardare alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riqualificazione, alla ristrutturazione, al restauro, a tutti questi temi che dal nostro punto di vista assumono un'importanza strategica. Però siamo anche consapevoli che quegli 800.000 lavoratori non sono spariti. Molti di quei lavoratori, anche qui a Pescara e in Abruzzo, sono lavoratori a nero. Noi vorremmo ricordare al governo regionale che fare una legge sulla congruità significa stare dalla parte della regolarità e della legalità. Più legalità, più regolarità, significa anche più lavoro. Subito l'approvazione della perimetrazione del Parco della Costa Teatina. E questa è la richiesta di articolo 1 che spinge per la realizzazione immediata dell'area protetta lungo la costa dei Trabocchi. Vediamo. Parco della Costa Teatina. Cosa aspetta il governo da approvare la perimetrazione? A chiederlo è il movimento politico articolo 1 con il deputato Gianni Melilla. Sono passati 20 anni dall'istituzione del parco. Non c'è altro tempo da perdere, dice l'onorevole Melilla. Il parco della Costa Teatina naturalmente non è solo tutela dell'ambiente, anche se i parchi si fanno essenzialmente per tutelare dei beni ambientali che hanno una rilevanza nazionale e mondiale e che sono un patrimonio dell'umanità, ma si fanno anche per favorire la promozione sociale ed economica di un territorio. Naturalmente il tutto deve essere fatto rispettando la missione fondamentale di un'area protetta. In conferenza stampa sul trabocco Punta Tufano a Rocca San Giovanni sono intervenuti altri sostenitori del parco, in particolare il senatore Angelo Staniscia, riconosciuto padre fondatore con quell'emendamento del 1997 che portò nel 2001 alla legge istitutiva del parco della Costa Teatina. A bloccarlo oggi, dice senza mezzi termini, sono le lobby dei costruttori che fanno pressione sulla politica regionale. Ci sono delle lobby del cemento che in effetti si oppongono a questa perimetrazione fatta dal commissario nominato dal governo, tant'è vero che la perimetrazione deliberata dalla giunta regionale non si sa da chi è stata fatta tra l'altro e ufficiosamente più o meno sappiamo che sono esponenti che non mi risulta che siano dirigenti della regione e se sono dirigente della regione significa che a mio avviso non hanno fatto ciò che sono gli obiettivi e i fini di un barco. Andiamo all'Aquila adesso, la difficile convivenza in centro tra attività e lavori dei sottoservizi. Capita sempre più spesso che nessuno avviso mette in guardia i commercianti e coloro che lavorano negli uffici dei probabili disagi. Un'ordinanza sindacale scaduta però l'8 luglio che chiudeva Via Verdi nell'intersezione con Via Tempera e quello che è accaduto di fatto senza alcun preavviso è che i dipendenti delle attività qui parliamo soprattutto dei dipendenti del ridotto del teatro comunale si sono ritrovati barricati nei loro uffici poi dopo qualche protesta la transenne è stata spostata e dunque è consentito l'accesso pedonale ma non dal corso che comunque è chiuso. Prigionieri dei sottoservizi è proprio il caso di dirlo. Una chiusura che ha penalizzato i dipendenti del ridotto del teatro comunale che senza nessun tipo di avviso si sono ritrovati barricati nei loro uffici senza peraltro avere la possibilità di accedervi. Dopo qualche protesta la transenne è stata spostata per permettere l'accesso pedonale. C'era un'ordinanza, nessun nuovo avviso un'ordinanza sindacale scaduta però l'8 luglio che inibiva soltanto il passaggio su Via Verdi e non su Piazza del Teatro dove invece si fanno diverse attività essendo serie della Sinfonica abruzzese. In passato già c'erano stati problemi e segnalazioni come ad esempio il famoso cavo della Telecom tranciato per sbaglio che ha lasciato però gli uffici per 12 giorni senza linea e ancora l'acqua tolta per due giorni senza avvisare ricordando che lì ci sono anche altre attività commerciali tra cui bar. Problemi comuni a tanti commercianti del centro storico che spesso si sono lamentati dei metodi utilizzati per effettuare lavori. Lavori necessari per carità necessari per riportare l'aquila al suo antico splendore ma i metodi usati a volte hanno davvero del grottesco. L'Associazione Ambiente e Vita ha organizzato una settimana di eventi a carattere sociale e ambientale per ricordare la figura del suo fondatore Nino Sospiri. È una settimana ricca di eventi e carica di importanti significati quella organizzata da Ambiente e Vita denominata Sospiri della Natura in programma dal 26 al 30 luglio per ricordare il suo fondatore Nino Sospiri. Una serie di iniziative che pongono l'uomo al centro dell'ambiente in sintonia con i principi ispiratori dell'Associazione che mirano lo sviluppo turistico del territorio attraverso la valorizzazione delle quattro riserve naturali gestite da Ambiente e Vita alle quali recentemente si è aggiunta quella del Borsacchio. Si inizierà alle ore 15 di mercoledì 26 luglio a Villa Sant'Angelo con la visita alle grotte di Stiffe e poi con la formalizzazione della donazione al comune dell'asilo intitolato a Nino Sospiri. Via via ci saranno altre iniziative fino al 30 di luglio. Sono anche iniziative che vanno a presentare le nostre attività, le nostre riserve e anche altre iniziative come per esempio la donazione dell'asilo Nino Sospiri al comune di Villa Sant'Angelo all'Aquila fatto successivamente al terremoto e da ultimo la spiaggia a caratterizzazione ambientale a Rocca San Giovanni che sono due cose molto importanti che non riguardano le gestioni dirette delle riserve ma riguardano altre attività che a nostro avviso sono ancora più significative. Che cos'è l'Associazione Ambiente e Vita? L'Associazione Ambiente e Vita è un'associazione ambientalista che è riconosciuta dal Ministero sin dal 2001 è stata fondata nel 1994 appunto da Sospiri e che ha una storia lunga alle spalle che negli ultimi anni abbiamo cercato di riattivare bene in Abruzzo gestisce cinque riserve regionali abbiamo migliaia di iscritti in tutta Italia e quest'anno insomma ci siamo rafforzati particolarmente Resi noti i vincitori del premio di Martin giunto alla sua decima edizione tanti nomi illustri che riceveranno il riconoscimento il servizio di Paolo Renzetti Decima edizione del premio di Martin in occasione del centenario dalla nascita del nostro corregionale Alessandra Portinari sono stati proclamati i vincitori di questa edizione Per quest'anno Piero Mazzocchetti riceverà il premio di Martin non solo per le sue bravissime qualità canore ma soprattutto perché ha una storia di emigrazione che ci verrà a raccontare in anteprima Poi c'è Francesca Salvatore che è pescarese ma vive a Londra è una disegnatrice ha disegnato l'ultimo film di One The Woman nelle sale cinematografiche Giuliana Martini imprenditrice della comunicazione del mondo dello spettacolo ma soprattutto è stata una delle collaboratrici più fidate di Nelson Mandela e poi ci sarà il top manager della Fiat che è galante è nato ad Atessa ma vive a Torino ed è il braccio destro praticamente di Marchionne un altro grande abruzzese e poi daremo due premi Gaetano Crocetti a due donne candida d'Aurelio cantante e l'attrice montesilvanese Tiziana Di Tonno Continua questa collaborazione con Alessandra Portinari che davvero con grande passione continua ad alimentare questa fondazione nel nome di Di Martin che tanto lustro ha dato a questo territorio sicuramente continuerà a dare tra le varie celebrazioni del centenario e l'intitolazione della Palla Congressi è tutta una fitta rete di appuntamenti che si snoderanno fino alla fine del mese con la consegna dei premi che stanno a rappresentare il riconoscimento che l'Abruzzo dà ai suoi conterranei che hanno preso la valigia dopo la seconda guerra mondiale era una valigia di cartone e sono andati a cercare fortuna in altri luoghi rendendo grandi magari altre nazioni noi non vogliamo cancellare questo legame con l'Abruzzo e siamo lì a ricordare e a premiare quelle che sono le eccellenze abruzzesi nel mondo e lo facciamo con grande piacere e questa sera a Loreto Aprutino appuntamento con i Com la cover band di Vasco Rossi il servizio di Vestina News Renato Pasqualone questa sera a Loreto Aprutino si chiude la prima festa dell'estate arrivano a Loreto Aprutino i Com la cover di Vasco Rossi sono un gruppo molto seguito in Abruzzo con il leader Mirko Salerni infatti pochi giorni fa si sono esibiti come spalla di Vasco Rossi a Modena questa sera avremo l'onore di averli sul palco qui a Loreto Aprutino in concomitanza della festa dell'estate a questo proposto colgo l'occasione per ringraziare soprattutto tutti gli operatori e i bar di Loreto che ci hanno permesso di fare questi tre giorni di Kermes Canora sul nostro territorio e vi aspettiamo numerosi questa sera a Loreto Aprutino in Piazza Garibaldi dalle ore 9.30 in poi per questo concerto non siete mai volpevoli se non state mai con i deboli e avete buoni stomaci sorridete gli spari sopra sono operatori ed è tutto pronto anche in Abruzzo per il concorso di bellezza Miss Blumare 2017 prima tappa nella nostra regione all'Aquila per poi affrodare alla finale nazionale ad ottobre a bordo di una nave da crociera nei mari del nord è un concorso di bellezza nazionale copre 19 regioni su 20 ha la particolarità di avere una fase finale nazionale che si svolge a bordo di una crociera una crociera dell'MSC che toccherà quest'anno dal primo all'8 ottobre tutte le capitai del nord Europa durante questa crociera si eleggerà la nuova Miss Blumare 2017 in Abruzzo iniziamo con l'Aquila lunedì 24 poi Giulianova mercoledì 26 e da lì tappe che copriranno tutte le province abruzzesi dal Piemonte in Abruzzo per partecipare a questo concorso di bellezza lei è già una modella però avrà questa nuova esperienza sì sono contenta di poter partecipare in Abruzzo e sono contenta di partecipare a questo concorso perché credo sia un bel trampolino di lancio mi piacerebbe molto vincere una fascia all'interno del concorso nazionale alla finale nazionale e mi aspetto di riuscire a raggiungere grandi passerelle e apriamo adesso la pagina dello sport iniziamo con il Pescara e con il suo nuovo centrocampista Mattia Proietti è arrivato qualche settimana fa dal Bassano formazione di Lega Pro Proietti parla del primo approccio con la maglia biancazzurra e anche con i metodi di preparazione per il campionato di Zeman inoltre si dice pronto a giocarsi le sue possibilità nel prossimo campionato lo ascoltiamo sicuramente al momento direi molto positiva stiamo lavorando lavorando tanto come sapevamo sarebbe accaduto però non ci sono grossi problemi particolari quindi sicuramente siamo sulla strada giusta me ne avevano parlato però provarla in prima persona è una preparazione sicuramente molto dura alla quale sinceramente non ero mai stato abituato però sicuramente sarà tutto lavoro che ci ritroveremo più avanti no ottime non è non è un allenatore da molte parole come si può vedere dalla televisione però comunque vuole lavorare su dei concetti e stiamo stiamo cercando di apprendere tutto quello che ci sta spiegando eh sì sicuramente il ruolo del mediano basso è un po' quello del regista è un ruolo importantissimo per il suo modo di intendere il calcio e sinceramente mi sento pronto e soprattutto sono pronto ad accettare questa sfida perché la ritengo una grande possibilità per me e non vedo l'ora di iniziare ma nonostante siamo siamo in molti è un gruppo sano molto sano si va tutti d'accordo si ride si scherza nonostante la stanchezza che non ci permette comunque di essere al 100% nei momenti fuori dal campo però sicuramente è un ottimo gruppo e si lavora bene si sta bene insieme per storia e per blasone sicuramente siamo obbligati a farlo e ci proveremo sicuramente l'obiettivo penso sia quello di stare il più in alto possibile per raggiungere un obiettivo importante di cui nessuno parla ma che comunque è nei nostri pensieri ho fatto già un po' qualche giro in città nei giorni antecedenti alla partenza per il ritiro e sì è una bellissima città mi sembra avrò modo comunque di scoprirla col passare del tempo e comunque sì penso che mi troverò sicuramente bene in più c'è il fattore mare che per me che vengo da Torino è una cosa molto importante e in Lega Pro adesso a Teramo sta prendendo corpo nelle ultime ore un altro affare possibile con il Pescara dalla squadra Bianca Azzurra potrebbe arrivare in bianco rosso il centrocampista Croato Orvoje Milicevic per lui si tratterebbe di un ritorno dopo la sfortunata parentesi di sei mesi nel 2015 Milicevic è l'ultima suggestione in ordine di tempo in casa Teramo il centrocampista del Pescara potrebbe essere uno dei giocatori in uscita dalla squadra Bianca Azzurra e dovrebbe esserlo anche con una certa celerità visto che Zeeman ha chiesto di avere per la seconda parte del ritiro del Delfino una rosa scremata rispetto a quella attuale ed allora ecco che il Croato potrebbe essere più di una semplice idea per la mediana del diavolo Milicevic però almeno a Teramo non suscita ricordi molto favorevoli soprattutto dopo il Teramo Spall del marzo 2015 nell'annata che poi portò la B proprio Biancorossi negli occhi però rimase quel rigore concesso al 92esimo per fallo su Finotto con Fioretti che pareggiò il vantaggio di Donna Rumma L'Ascoli recuperò due punti al diavolo e in molti scommettono che senza quell'1-1 il Teramo il campionato lo avrebbe potuto vincerlo anche prima di Savona storia passata ormai il presente dice che Milicevic può essere un colpo importante e tornerebbe nel caso ad un'età più matura e con due esperienze l'Aquila e appunto Pescara che lo hanno reso un giocatore decisamente diverso da quello che arrivò al Bonolis nel gennaio 2015 intanto il direttore sportivo Giorgio Repetto mette a segno altri due colpi di mercato che vanno però a rinforzare più che l'11 titolare la batteria di alternative a disposizione di Antonino Asta perché dalla Nocerina arriva l'attaccante romano Andrea De Iulis negli ultimi tre anni in Serie D con le maglie di Vispesaro Serpentara e appunto Nocerina per lui contratto di un anno in porta invece il ruolo di dodicesimo lo avrà il polacco Michal Lewandowski che molti in Albruzzo già conoscono perché l'estremo difensore classe 1996 in questa stagione è stato uno dei protagonisti del campionato dell'Avezzano un talento purissimo e che il Teramo si assicura a titolo definitivo con un contratto biennale sia De Iulis che Lewandowski inizieranno a lavorare con i compagni di squadra mentre martedì primo test vero dopo la sgabbata con l'Ala Fidelis terminata 8 a 0 col pescara di Zeman amichevole di prestigio da Avezzano e anche l'occasione di intavolare altri discorsi di mercato E il Francavilla Calcio invece passa di mano dopo l'annuncio del presidente De Vincentis che ha prodato la guida del Lanciano Calcio 1920 il sodalizio giallorosso prossimo al ripescaggio in Serie D è stato ceduto alla cordata capitanata dall'imprenditore Gilberto Candeloro che sarà affiancato alla vicepresidenza da Giacomo Ortolano che ha curato i dettagli proprio del passaggio societario adesso per il Francavilla non resta che formalizzare l'iscrizione nel nuovo campionato una volta che sarà ufficializzato il ripescaggio in Serie D e a proposito di Lanciano e a proposito del neopresidente Fabio De Vincentis è proprio lui a lanciare la campagna abbonamenti del sodalizio frentano che punta a tornare presto nel calcio che conta sì diciamo il motto come ben vediamo ricominciamo per te e quindi è giustissimo che per una piazza come Lanciano ci sia diciamo una società che voglia fare ma è altrettanto giusto che il pubblico si riprende il proprio posto e quindi applaudire se siamo bravi o fiscarci pure perché se non facciamo le cose per bene ci sta anche il giusto diciamo rammarico del tifoso speriamo che assolutamente non possa succedere una cosa del genere perché non lo vogliamo perché effettivamente ci sta tanto entusiasmo sia da parte diciamo di tutto il gruppo di lavoro ma anche dei ragazzi del mister del grosso e tutti non vedono l'ora di stare sul pezzo quest'anno parlavo poc'anzi proprio con degli addetti ai lavori e ho risposto mio figlio dicendo quest'anno è l'anno zero quindi non ci mettiamo dei numeri quello che viene quello che viene ce lo prendiamo di cuore perché tutti quanti stiamo lavorando con il cuore per il lanciano e tutti quelli che arrivano arrivano per abbonarsi per il lanciano calcio speriamo che sia un numero alto parliamo di atletica adesso perché l'atleta teramana Gaia Sabatini centra la finale europea i campionati under 20 in corso a Grosseto per la Sabatini vittoria della batteria in 4 minuti 20 secondi e 17 tempo che le ha permesso anche di ritoccare il primato personale l'ascoltiamo sì sono molto contenta volevo vincerla perché ho visto il passaggio simile diciamo discreto quindi ho detto cavolo posso fare anche il personale quindi ho detto va bene dai spingiamo fino alla fine e vediamo che cos'esce e adesso prossimo round con quali ambizioni? l'ambizione è di dare il meglio di me non ho nulla da perdere ho fatto una bella gara oggi e ti dirò non sono nemmeno tanto morta diciamo quindi posso dare ancora però comunque sostenere due turni sui 1.5 è tosta quindi cercherò di dare il meglio di me e ciò che viene viene sono felicissima per questa finale e quando corro mi concentro solo su quello quindi non sento molte voci però comunque le ho sentite le urla e fa un effetto bellissimo perché giocare in casa appunto con tutti i italiani anche le persone esterne mi dicevano forza Gai anche non conoscendomi quindi è un'esperienza bellissima e spero di rifarla anche l'anno prossimo Maglia Azzurra titolo italiano di categoria sei in finale in una rassegna continentale quante emozioni quest'atletica? troppe emozioni prima delle gare anche se diciamo svengo per l'ansia poi dopo le gare sono sempre felicissima e non cambierei per nulla il mondo questo sport questo era anche il nostro ultimo servizio il TG6 torna lunedì puntuale alle ore 14 per il momento è tutto grazie e buona domenica